ebbene si ragazzi ho nerdato come un maialino insieme a sammy tutte le volte che ci troviamo diciamo dai facciamo una partita ok ne facciamo una spray cos'è che ho trovato ok un bel logo per la nostra tracer ma 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 signori miei oggi andiamo a provare quello che è diventato il mio personaggio da svolta nel senso che abbiamo fatto dei massacri ieri avremmo fatto 67 partite una dietro l'altra tutte vittoria tutte vittoria con dei risultati pazzeschi andiamo a provare soldato 76 che a vederlo così parte col numero dietro veramente tamarro è quello che avrei evitato come la peste e invece ma andiamo a provarlo eccolo qua guardalo nessun eroe di supporto vabbè allora giocando ragazzi abbiamo già notato pronti via a parte che io un po me l'aspettavo da blizzard però non così tanto cioè ci ha offerto una beta con 8 milioni di mappe tutti i personaggi con tutte le abilità è il gioco completo praticamente ok ci mancano delle modalità le modalità si sono carenti però porca vacca un sacco di stage anche questo io ad esempio non l'avevo ancora mai visto detto questo noi adesso dobbiamo attaccare o difendere vabbè chi se ne frega detto questo abbiamo notato che ci sono parecchie cose che andrebbero sistemate più che altro andrebbero riequilibrate perché è già difficile io dico riuscire a rendere equilibrato un gioco che ha due perk in croce e 10 armi in croce e così via questo gioco che ne ha 800.000 tra personaggi perk caratteristiche capacità ci sono tantissime cose riuscire a trovare un giusto equilibrio è veramente difficile e infatti ci sono alcuni ci sono alcuni alcune particolarità che non vanno non vanno tipo anzo è op troppo 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 il cecchino è troppo veloce troppo potente guarda ecco le torrette sono una roba ragazzi sono la roba peggiore avete visto che danno che aveva fatto sono la roba peggiore del gioco noi adesso qua riuscire ad andare fuori non sarà facile allora il nostro soldato praticamente rende il gioco boh ciao bella rende il gioco come cod non proprio come cod ma lo avvicina molto allora poverino curiamo qua venite qui ha bisogno è molto molto equilibrato cazzo guarda quella cazzo di torretta non riusciamo a uscire è molto equilibrato io provo a buttarmi qua ok è riuscito a scappare è molto equilibrato come potenza di fuoco può curare ha una super veramente op e poi ha più vita rispetto al racer vedete proviamo ad aggirarle ieri avevo fatto delle sponchi il mamma mia mi odiava la gente allora andiamo di qua l'unica cosa che bisogna curare e bisogna correre con l1 mamma mia ci sono abituato c'è anche il lanciagranate la corretta nemica è affinato aiuto ma che ghiaccio mi fanno due maroni preso no ancora torre mamma mia ma cioè ma questo è un problema è anche che la gente appena scopre che c'è una stronzata che è più op di un'altra tutti usano quella stronzata tipo queste torrette del cazzo ecco e anzo mi sciotta cioè faccio un'azione da paura guarda questo fermo come una merda guarda guardalo ti becca per culo per culo perché c'è un aimbot le frecce di anzo e il cecchino della della zoccolona hanno un aimbot incredibile troppo troppo va bene troppo c'è da bestemmiare con quel gioco che ho già capito ecco la super carica però spesso è il momento giusto perché non voglio buttarla via no deficiente potrebbe essere questo allora praticamente con la super io sparo a macca e amassi tutti ah c'era l'angioletto che mi stava a cazzo via 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 molto veloce anche molto rapido nel movimento ti attacchi al cazzo volevi uccidermi eh sarebbe piaciuto guarda il ninja mi sa che muore adesso il ninja cazzo cazzo torretta scommettiamo scommettiamo vaffanculo vaffanculo cioè guarda 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 ah ormai muori solo per quello lì eh ecco cioè te ne ho risponato capite bene che capirete bene ragazzi che non è possibile bestemmiare così guarda l'angelo che mi cura finalmente qualcuno che dà supporto in squadra bravo preso fammi quello per l'aumento danni angelo perché l'angelo può anche darti il il coso curativo però può anche darti quello per aumentare i danni eh che con questo soldato è una roba vorrei avvicinarmi ma ho paura chi c'è qua madonna ma ho preso il ninja aveva poca vita l'ho sfiorato ricarico un attimo occhio ciao bello ciao bello mamma mia è rapidissimo questo personaggio mi piace un casino e la cosa che non mi era piaciuta era appunto la velocità un po' ridotta di tracer quando non usa lo scatto ciao mentre invece famma mia si si vai a fare mezzogiorno ah l'ho usata nel momento sbagliato l'ho usata molto molto male obeso cazzo ucciso via 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 eh ragazzi sto uccidendo è una cosa che non avevo capito nel primo video cioè no l'avevo capita però la sottolineo anche adesso più fai uccisioni più mandi su vedete la barretta in basso sotto la mia vita quella dei colpi incendiari più lo aumenti più naturalmente i tuoi progetti fanno danno retroattivo quindi tu colpisci il fuoco fa il lavoro sporco ciao bello va bene ieri abbiamo quasi fatto la nuclear sono arrivato a 21 di fila merda venite qui a qui bravo bravo angelo quella è forte però io non mi son trovato benissimo ad usarla muori stronza tu che ghiacci no cazzo va bene va bene va bene eh anche qua ci sta un lanciarazzi siamo stati tre stronzi che non ci siamo accorti che stavano salendo rialzarmi però almeno ha una cadenza di fuoco lenta cioè è un personaggio abbastanza equilibrato perché il lanciarazzi è forte forse troppo eh forse troppo perché anche quello scioccia indipendentemente che tu abbia un personaggio con 200 di vita o che tu abbia un personaggio come sei ancora qua porca puttana vieni su vieni su aiutarmi no stronzo anche anche il lancia granata è qualcosa di sì sì l'importante è che ci credi col tuo carro armatino ok no dai c'era solo lui sto usando malissimo la super vorrei farvi vedere i massacri che si possono fare purtroppo naturalmente è sempre così quando bisogna registrare le cose che che vuoi fare non ti vengono mai ma ieri veramente mamma mia allora ho riuscito a girare ah che troia dietro allo spawn ai nemici o quella super mossa lì ciao bella ciao ciao saluta a tutti mi raccomando anche quella non è da sottovalutare perché un personaggio è stronzo se lo sai usare bene non ti congela non ti muovi più naturale che la metti davanti a una torre o davanti a un secco sei finito figa anzo no anzo no muori vabbè abbiamo vinto e sono morto contro quell'anzo di merda ti odio ti odio è strano sicuramente nerferanno un sacco di cose per facere guarda che roba cioè guarda che roba ma secondo te ma sapete quei tank lì quanta vita hanno vabbè beh io mi metto mi piace da solo nessuno me lo mette perché tutte le volte a chi fa più uccisione non mi metto mai mi piace sta sul culo a tutti cazzi vostro oh vabbè livello 12 ci apriamo anche un forzeer quindi sì potremmo fare un'altra partita no è durata 8 minuti no direi che va bene così è durata è durato 3 minuti sì dificil non non